Eccoci qua, siamo qui nella strada della famosa area del Guadirupo, l'area protetta desertica e siamo a bordo di un pezzo a jeep. Un pick-up trasformato a jeep. Vi facciamo vedere che cos'è. Guardate lo spettacolo. E ci vediamo stanotte dalle crotte. Stasera dormiamo sotto le stelle nel mezzo del deserto. Se sopravviviamo ci vediamo. Alla prossima, intanto abbiamo già preso il tè con i peduini e adesso stiamo sperimentando la passeggiata a lume di stelle del deserto. Facciamo una meditazione, qualche piccolo respiro e ci godiamo quello che è un paradiso davvero. Se sopravviviamo ci vediamo alla prossima. Namaste. Buongiorno dal deserto. Ci siamo svegliati una mezz'oretta fa per venire a vedere il sole che sorge dalla nostra piccola caverna. Abbiamo dormito meravigliosamente perché stanotte ha fatto caldo e poi le stelle che puoi vedere nel deserto, insomma l'aria che si respira è eccezionale. Quindi abbiamo fatto un'ottima notte di riposo. Luigi. Luigi sta camminando. Ci siamo alzati. Guardate il panorama. Adesso vi porto a vedere anche dov'è che abbiamo dormito esattamente. Seguitemi. E questo è dove abbiamo dormito. Colazione nel deserto. Quindi Luigi che si mangia. Namaste a tutti. Alla prossima.